Buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo video direttamente dalla Corea Vi è piaciuto tantissimo l'ultima volta che ho fatto il video 24 ore da sola a Seoul Visto che oggi è effettivamente l'ultimo giorno che io sono da sola Perché poi domani torna Ross Ho detto, perché non fare una parte 2? Quindi vediamo dove ci porta questa giornata Anche perché in realtà poi non so bene cosa voglio fare Cioè voglio fare tipo un sacco di cose ma poi ogni volta devo sempre capire Tra l'altro pensavo di aver messo la sveglia In realtà non l'avevo messa quindi mi sono svegliata adesso Vi faccio vedere l'orario, è imbarazzante ma sono giorni che vado a dormire tardissimo per finire di lavorare Quindi avevo tipo da recuperare Questo è l'orario Tra l'altro nelle case coreane come potete sentire si sente tutto quello che succede fuori Penso che anche mentre parlo i miei vicini mi stiano sentendo Ma a parte ciò, oggi volevo anche registrare un altro video Che è il video sui fast food che ci sono in Corea In realtà volevo iniziare a registrare perché non penso che li mangerò tutti oggi Quindi oggi vi faccio vedere appunto l'otteria che è quello che sta qua vicino Almeno mi sono svegliata tardi, ok? Salto direttamente alla colazione Vado direttamente a mangiare Prima devo ripassare un attimo alla InFriend Shop Che apri a mezzo giorno e mezza E voglio vedere se hanno rimesso Queste ciabattine qui perché, ok, io le ho prese Però ho visto che c'è anche la 2,60 Collezioniamole tutte Tra l'altro questi giorni in Corea sta facendo freddissimo Ve l'ho ripetuto 8.000 volte che mi seguite su Instagram, lo sapete già Infatti ieri sera avevo aperto un pelo di riscaldamento Ma non so se è perché non so bene come utilizzarlo A un certo punto sembrava di stare nell'inferno Quindi mi sono dovuta alzare, spegnere, fare Però già c'è il riscaldamento del palazzetto insomma Quindi faceva caldissimo Questi giorni da sola mi sono serviti Perché come sapete io anche a casa mia a Roma insomma La maggior parte del tempo sto da sola Non per qualcosa ma perché mi piace Quindi aver vissuto due mesi H24 letteralmente con Ross Pensavo mi pesasse di più per come sono fatta io appunto In realtà siamo state benissimo ripeto Anche perché poi ogni tanto ovviamente ci dividevamo Chi doveva fare una cosa e chi un'altra Però appunto questa settimana di stacco totale Ci siamo sentite, videochiamate eccetera Ma di stacco totale fisico Mi è servita quindi domani quando l'andrò a prendere in aeroporto Vabbè a parte che vedrete tutto Ma sarà proprio una gioia Vi prego guardate il pezzetto di giardino Per arrivare e andare da casa mia fino alla stazione di Hongik Io i pazzi Questi giorni sto facendo solo foto agli alberi Cioè se voi aprite la mia galleria Solo foto di alberi perché guardate che meraviglia Sapete un altro dei motivi per cui mi manca tantissimo Ross Perché praticamente facevamo un gioco Vabbè lo sapete che qua ci sono i boni Noi facciamo un altro gioco A parte il bono Ma noi cerchiamo la moda Ogni tanto mentre noi camminiamo Io le faccio a Ross Ross Moda Poi scegliamo anche il brand che potrebbe assumerlo Tipo Moda Givenchy Moda Mimio Moda Gucci Non potete capire i potenziali modelli che io ho trovato in questa città Ma tipo c'era almeno 6-7 al giorno E loro non lo sanno Cioè loro non sanno che potrebbero fare i miliardi Una volta ragazzi ero seduta in un locale Davanti a me c'era il modello Cioè proprio il modello Lui non lo sapeva Lui era palesemente alticcio un po' briachello E quindi stava col collo un po' così E si vedeva questa gioia No ragazzi non avete idea Io scioccata Ancora ad oggi scioccata A parte c'è adesso sto con la line friend Poi vediamo se riesco a girare appunto questo video sul fast food Intanto noi aspettiamo che apra questo qui Ok la vostra amica ce la fa Ho trovato le ciapattine quelle appunto 2,60 Ho preso sia Cookie sia Tata Che sono quelle che mi piacciono di più In realtà c'era anche Koya quelle che c'ho a casa Ma già ce l'ho Provo appunto ad andare alla lotteria Appena scesa a Abgujong E mi fa troppo ridere perché quando scendi in queste fermate Tipo un po' più Non vorrei dire alto locate Ma insomma dove ci sono un po' più di posticini di nicchia È pieno di cliniche per la chirurgia E ci sono i banner in metro pubblicitari dei chirurghi Ecco dovevo girare prima e non ho girato Molto bene Comunque mi è successo una cosa troppo strana Perché stavo camminando E ad un certo punto ho sentito il profumo di mia madre Che lei indossa tipo o Alien o Narciso Rodriguez Non so se non so se è presente la fragranza Fatto sta che qua è molto strano sentire questo tipo di profumo Quindi mi ha fatto stranissimo Perché un attimo riportare solamente vecchi ricordi Sto andando adesso allo store Che praticamente vende un po' di merch Un po' di cose Sempre se non mi perdo Così ve lo faccio vedere L'ho trovato Eccolo qua Monopoly Praticamente è il brand che fa le robine Che adesso vi faccio vedere Questa qui Vado via Guardate che carine Le cose della linea schia Questo Che carino Le borsettine Ah qui c'è proprio tutto Ci devo tornare con Ross Ovviamente potevo mai non comprare qualcosa Oggi sono shopping di merch Tra l'altro mi sto raffreddando tantissimo Prima in metro stavo soffrendo da morire Perché ovviamente Devo tenere la mascherina Col fatto che ho ancora un po' di mal di gola E il raffreddore Cioè dove respiro Non respiravo Un incovo il piatto per venire qua Ora In teoria mi ha scritto Jenna Ma non ho capito cosa mi ha scritto Quindi devo prima vedere cosa mi ha scritto Perché le avevo detto che devo andare alla Hybe In teoria Che devo ancora passare a prendere le card per voi Però non ho ancora preso i biglietti Adesso vado lì vicino alla Hybe Prendo i biglietti Poi aspetto che si faccia l'orario Così entro Sono arrivata alla Hybe Che è ormai la mia seconda casa Eccola qui Dietro di me Praticamente ho preso il biglietto Pensavo Cioè lo vedete perché poi uno dice che sto nello spettro Perché per forza Cioè non è possibile Io ho preso il biglietto pensando che 6 e 20 Fossero le 16 e 20 Cioè la mia mente era sicura che fossero 16 e 20 Invece sono le 6 Quindi io vado per andare Che sono le 16 e 16 E mi fa Puoi entrare fino a mezz'ora prima E io ero tipo Eh sì sono le 4 e 20 Poi mi è venuto tutta la mente In uno in secondo Cioè vi giuro Ma vi prego ditemi che vi capita Comunque tra le cose che ho comprato prima C'è questo porta carta Che è troppo bellino Quindi adesso mi dovrò per forza andare a mettere in qualche caffè di questi qua intorno Per rendere una cosa calda perché sto morendo Cioè vi giuro sto gelando Io stamattina sono uscita Ho detto vabbè Tanto poi non vado in giro E invece tac Quindi non ho messo la maglia termica Ho comprato ieri Molto male Molto molto male Poi vedete il sole ci sta Ma c'è proprio il venticello Penso questa zona l'ho fatta vedere 800 milioni di volte E qui c'è il piccolo caffè Guardate che bellino Quindi dai entriamo qui Oh ma guardate lì che foto Sexy Guardate che carina Hanno anche tutte le targhette qua Al caso del concerto Lì ci sono i tè per l'evento di ginno Che vedete Potete prendere queste cose Chi è che apre un caffè a tema BTS anche in Italia Grazie Cioè pensate ad andare al vostro bar di fiducia Per prendere la vostra cosina da bere Vedere e sentire le vostre personcine per cuore Oggi è il mio tipo healing day Compratevi qualcosa Bere, divertirvi Ecco oggi è uno di quei giorni Sì Tornata a casa Prepariamo la cena Ho appena finito di fare la videochiamata con Ross Tra l'altro perché stavo al supermercato Mi ha chiesto che ti serve Che non ti serve Quindi vedremo poi cosa ci avrà portato Detto ciò Topochi Purtroppo non ho le rice quelle con dentro il formaggio Perché mi sono scordata di prendere l'ultima volta Ma comunque Qui abbiamo il formaggio normale Con il mio piccolo fornelletto qua Di induzione No non è neanche induzione Elettrico Comunque cioè Voi sentite che stanno attaccando un chiodo E sembra che sono qui dentro Mentre che le rice cake fanno un piccolo bagnetto Perché vanno messe un pochino a mollo Mia solita postazione Oggi non mi sono mai tolta il cappello Tra l'altro direi che è anche ora Vi faccio vedere appunto cosa ho preso Primo l'ho già messo qua Anche se lo volevo attaccare al telefono Perché vedete ha questo piccolo gancettino così Comunque Della linea Sweetie Ho preso questo Cos'è? Tipo un gancettino Come si chiama? Un laccetto Di Shuki Poi ho preso la copertina Questa qui è troppo carena Il disegno insomma che c'è sopra Non dovrebbe essere troppo grande Quindi mi piace Poi cos'altro ho preso? Questo qui è il porta photocard Sempre della linea Sweetie di Pookie Che tra l'altro veniva tipo pochissimo Cioè 1,50 euro Lo sapete da noi quanto ci fanno pagare questi? Questa stessa versione di questo trasparente A Las Vegas L'ho pagato 16 dollari Soprattutto vi ricordate l'ultima volta che sono stata in Corea La prima insomma volta a giugno Avevo preso molta più skin care e make up Stavolta sono molto più sul merch e cose del genere Cioè per dirvi ho preso anche una penna E poi appunto stamattina avevo preso il porta passaporto Che adesso lo mettiamo subito Poi le due ciabatte Queste sono quelle di Tata E queste di Cookie Poi vabbè ho preso il muffin appunto per Jenna Queste ciglia finte perché le volevo provare Carine soprattutto la banda Ovviamente le candeline Ne metterò solo una Ho preso queste che almeno hanno il cuoricino E poi guardate che cosa ho trovato Queste qua dovrebbero essere delle boccette Che vi fanno sparire Tosse, raffreddore, mal di gola Eccetera 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 Cioè sono letteralmente delle boccettine Quindi credo sia Boh forse il siroppo Ho detto nel dubbio Io le prendo Non so se fidarmi Prima mangiamo Perché almeno sa da schiattare Almeno a panza piena Beh che dite? Ha una bella faccia Magari se c'era quello sopra che si scioglieva Era più carino Anche perché sto morendo di fame Prima appunto mi sono presa soltanto un caffè Poi non ho mangiato niente pomeriggio Quindi devo mangiare Così poi posso prendere un attimo la medicina Per il mal di testa Perché non ce la faccio Nel mentre sto finendo di editare un video Poi appunto Quando si avvicina alla mezzanotte Comincio ad andare Verso casa di Jenna Sono letteralmente Dieci minuti A piedi da qua Mia madre sta cercando di persuadermi Sao mamma Se guardi questo Se guardi No Lei li guarda Va tutto bene La Corea È molto sicura Ovviamente Non mi sento di dirvi È sempre sicura Perché poi ragazzi Cioè nel senso Lo sapete meglio di me Non è tanto il luogo Quanto le persone Incontro una persona Che è pazza pure qui Cioè Può essere tutto Mi sento sicura E tranquilla ad uscire Sì Tipo l'altro giorno Non so se ve l'ho raccontata Questa cosa Mi sono scordata Il passcode Della porta E mi ero scordata Anche il telefono Dentro casa Lo so Sono stata stupidissima Sapete quando fate quelle cose Proprio di corsa Perché avevo messo le chimici Nella busta della spazzatura E dovevo portarla fuori Per togliere Quella puzza immonda Perché il chimici È buonissimo Ma puzza tantissimo Dentro casa Ho chiuso la busta Tattata Ho messo le pantofole La giacca E sono uscita fuori Il telefono era in carica E me lo sono completamente dimenticato Ma sapete Quando chiudete la porta Poi erano i primi giorni Che stavo qui Quindi il codice Non lo sapevo ancora bene A memoria Avevo ancora no I residui di quello precedente Dell'altra casa Quindi cosa ho fatto Appena ho chiuso la porta Alle mie spalle Ho fatto Porca miseria Vuoi vedere che adesso Cioè ho messo il codice Tranquillamente Le volte prima Sapete quando vi autoinducete La perdita di memoria Ecco Ero così tanto impanicata Di potermi dimenticare il codice Che effettivamente Me lo sono dimenticata Mi ricordavo soltanto Il primo codice Del La porta quella comune Non quello della porta di casa Quindi Impanicata persa Erano le due e mezza di notte Ho fatto Che faccio Cosa non faccio Ho provato a rimettere il codice Un paio di volte Qui ma Non mi proprio veniva in mente Mi ricordavo Le prime tre Mi mancava l'ultima cifra Quindi ho detto Ok prendo E vado a casa di Jenna Quindi mi sono fatta Una camminata Alle due e mezza di notte Vi dico La gente Così Cioè letteralmente C'era tipo Non dico mezza Ma quasi Soprattutto che portavano A spasso i cani Ma io dico Ma come ti viene Alle due e mezza di notte A portare a spasso i cani Va bene Quindi sono arrivata A casa sua Le ho detto Jenna Meno male che era sveglia Per fortuna Grazie al Signore Mi ho fatto scrivere a Ross E mi sono fatta ridare il codice Poi sono tornata qui E andava tutto bene Non sapevo che in realtà La mia vicina di casa Fosse la proprietaria di casa E quindi potevo Magari svegliare lei E chiedergli Vabbè Comunque è stata Un'esperienza fantastica Tutto ciò appunto per dire Vi sto affinando il video E poi Le vado a fare questa sorpresa Ok devo arrivare all'appartamento di Jenna Guardate giusto in tempo Spero non mi senta arrivare Ok ora devo mettere tutte le candeline Ok non ero pronta a questa Io acqua Jenna si è presa Che è quella tequila Tequila e pinacoli Tequila e pinacoli Sì 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 Siamo qua a sul campo Il problema è che non ero pronta ad uscire Non ero pronta ad uscire Quindi sono struccata Finché va questo È tutto bene 52 grazie Non mi ha fatto mai vedere la vita notturna qua Ma è meglio così Ok ora probabilmente mi sentirete meglio Io e Jenna abbiamo fatto un giretto In quella che noi chiamiamo La strada dei boni L'abbiamo rinominata così Perché è sempre piena di boni Guardate è molto tranquillina la situazione Cioè c'è sempre qualcuno ovviamente Ma meno persone Questa è l'ora in cui potete vedere tutta la spazzatura Perché ovviamente la devono ancora passare a prendere Che poi mi avete chiesto Perché non hanno i secchi In realtà da quello che ho capito Ho sentito e ho chiesto Non li mettono per paura Che nei secchi ci possano mettere Cose per fare tipo attacchi Bombe Cose che esplodono insomma Però non è che si ritengono così ammucchiati È meglio la situazione Quindi non l'ho capita come cosa Sinceramente Però vi posso dire che fa un po' freddino adesso Sì bellissimo Perché ripeto non era programmato che andassimo Io ho portato il coso già Ah no ho detto ok Finirà lì E invece no Lei si è preparata di corsa E mi ha fatta uscire Molto divertente quando succedono queste cose così Controlliamo quanti gradi fanno adesso Ok no non credo sia possibile Che sia meno 4 gradi Forse 0 gradi Tornata a casa Devo ovviamente farmi la doccia Sono le 2 di notte Mi sono leggermente gelicchiata Per oggi questo mio video Finisce qui Mi mancava in realtà girare un video Che fosse proprio Dalla mattina alla sera Perché ultimamente i vlog capitiscono E' raro che fossero di un giorno solo Forse solo quello del concerto di Busan Era di un giorno Per il resto ho sempre montato diverse clip insieme Quindi mi mancava registrare proprio un video intero Però comunque appreziate tutto quanto Caricata la foto del piccolo Amaru C'è anche Aisy là dietro Non so se la vedete Eccola qua In braccio a mio padre Ma meglio non mi mancano d'amore Non ce la faccio ogni volta che li vedo Tra l'altro mio padre Col pantaloncino della fila Che qui va tantissimo Ogni tanto vedi qualcuno che indossa il marchio Soprattutto sul giacchetto dietro c'è scritto Biella Italia Comunque appunto Questo era tutto per oggi La mia ultima giornata Ufficialmente ultima giornata Da sola Totalmente sola A Seoul Spero appunto questa serie Delle mie 24 ore alone Vi sia piaciuta Detto ciò appunto Ci vediamo al prossimo video Abbiamo ancora tanta avventura davanti a noi Quindi ci vediamo presto Ciao